Diciamo che per il mondo che io ho nella testa sono davvero la principessa del ballo di questa gara perché magari non ho la gonna, non sono un personaggio che si siede così ma magari più così come infatti stavo seduta io è vestita di giallo perché è un ex scuolabus e ovviamente è nella parte più estrema del film è un personaggio femminile che sostengo, che mi piace, che partecipa alla pari con quei ragazzi senza fare appunto la fila dietro e devo dire oltre che una gara di macchine sgangherate anche un po' un raduno della vecchia scuola dell'hip hop in Italia perché questa cosa di vedere arrivare le nuove generazioni a me è una cosa che mi esalta molto e mi piace molto l'idea che ci sia un senso del tempo dello scambio di esperienze tra le persone, del rispetto di chi è venuto prima e che riconosce il lavoro che è stato fatto prima per essere più padrone del proprio di lavoro e davvero come diceva Sabrina è un film importante per le bambine che appunto finalmente hanno anche dei riferimenti con meno pizzi magari qualche adesivo in più sulla carrozzeria e parteciparà alla stessa gara a cui partecipano anche i ragazzi, anche se sembra una stupidaggine in realtà il significato è un significato importante